ruggito andoni fermo si chiama luca si chiama luca marinelli dove luca non so luca chiama luca chiama con il nuovo marinello marinelli cosa si chiama luca si chiama luca si chiama luca ultimo ciao amici rapper amici rapper ciao timon eccolo qua poi timon francese no no da posto lì da posto di nuovo no timon francese lui è di lazza poi è Ivan no è di lazza è di lazza è di lazza è di lazza no amici no amici vieni qua vedo il nome è Mimo Mimo vieni qua vieni qua vieni qua ciao a Mimo a me mi ciao a Mimo ciao a Mimo Ciao a Mimmo, con il nome Amin, il fratello di Gennaro, il cugino di Gennaro, no è il fratello di Gennaro, Mimmo Amin supereroe, supereroe, sbagliami uh Alessandro ciao, ma, no vieni qua, Imma, vieni qua, vieni vieni Chiama Alessandro, cognome Balboa, è sempre fratello di Claudio, ciao fratello di Claudio, ciao Raffa, Alessandro Balboa Chiama, dove stai? No, questo è il coniglio è tornato a casa, questo è Alessia Ardi, la sorella di Sabrina, Alessia, chiamo Alessia Sama la la decisione D'acqua, che non è un'ottima di funcione Quanto è l'ottima di Grazie a tutti.